Oggi sono emozionato perché non immaginavo tre anni fa di trovarmi oggi in questa posizione. Quindi ringrazio tutti, i sponsor, i tifosi, tutta la comunità aretina che ci ha comunque gradualmente accorto. San Donato rappresenta la città e questa maglina rappresenta l'Arezzo Calcio. Dovrebbe essere un binomio vincente. Dunque, potremmo definirla una maglietta patriottica perché ci sono i simboli di Arezzo e anche l'1R. La sera della festa, la vittoria in piazza, terminai così Arezzo, se ci sei, batti un colpo. Vedo che alcuni hanno capito e anche l'Arezzo imprenditoriale si è data da fare. E' veramente una cosa bella, sia questa che la prima, dove c'è il colonnato della Pieve, è bellissima. E anche questo, in sintesi, questo San Donato, il busto San Donato, devo sottolineare una cosa, la teca che custodisce questo busto reliquiario, in occasione del centenario delle lunezze, Sergio Squalcialupi, l'ha regalato proprio alla Pieve. Perciò ho doppio, doppio legame. Si può dire una cosa? Che è riuscito con quel batti un colpo anche a radunare tre fabbriche orafiche che prima mai si erano messe in giro? E' una formula da assoluta spiritica che non mi si addice un gran che, però mi sembra che abbia funzionato.